L'ex mercato ortofrutticolo di Piacenza sarà abbattuto entro la fine di giugno. Il nuovo accordo tra il Comune e il Consorzio Terre Padane prevede la demolizione della struttura di Via Colombo entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'intesa che avverrà in maniera ufficiale davanti a un notaio nelle prossime ore. Ma quella presentata oggi in Consiglio Comunale è una partita ben più complessa che non riguarda solo l'ex mercato ortofrutticolo ma anche tutta la riqualificazione del comparto nord di Piacenza. Il Comune è riuscito a seguito di una trattativa con il Consorzio ad avere garantiti in tempi brevi delle opere di interesse pubblico che la città non può più aspettare. Il primo è l'abbattimento dell'ex mercato ortofrutticolo e la realizzazione al suo posto del parcheggio. Questo lo potremmo ottenere nel giro di 120 giorni circa da oggi. Dopodiché sempre entro la fine di marzo il Consorzio ci trasmetterà la progettazione per le opere legate al bando periferie quindi riqualificazione di Piazza Casali e dell'ex locomotore Berzolla. Terre Padane si legge nelle carte a tempo fino al 31 dicembre del 2023 per sottoscrivere la convenzione urbanistica e fino al 31 agosto del 2023 per individuare il soggetto attuatore del maxipiano urbanistico. L'accordo prevede anche un insediamento commerciale di 19.500 metri quadrati. Cominciamo a dare una risposta a due aree della città che hanno atteso troppo tempo. Entro quattro mesi quindi l'ex mercato ortofrutticolo sarà di certo demolito. Gli altri punti del progetto di recupero del comparto nord invece avranno tempi più lunghi, troppo secondo l'opposizione. Quello che si poteva portare a casa da parte di questa amministrazione nel 2019 invece oggi con questo accordo lo dilazioniamo per quattro anni. Quindi non vedremo niente se non forse nel 2023, una firma nel 2023. Si sposta la responsabilità su chi ci sarà dopo. L'unico interesse per essere stato quello di abbattere l'ex mercato ortofrutticolo per farne un parcheggio. Il grosso tema che viene posto è sempre quello della sicurezza. Per noi fare un parcheggio significa solo spostare il problema da un'altra parte. In Consiglio Comunale il sindaco Patrizia Barbieri l'ha definita una partita complessa e difficile. Le parti politiche non c'entrano, ha detto il primo cittadino. L'amministrazione ha lavorato su una serie di miglioramenti nell'interesse pubblico.